Musica Cari amici di Wall Street Italia, seconda giornata di consulenza, siamo a Roma con Giovanni De Mare, Head of Distribution di Fontobel Asset Management. Dottor De Mare, i mercati in queste prime settimane dell'anno sembrano aver riscoperto l'interesse per quanto riguarda i mercati azionari, invece ci sono alcune tensioni sul fronte obbligazionario con i tassi di interesse richiesti sul mercato secondario da parte degli investitori in rialzo. Ecco, all'interno di questo scenario comunque complicato e complesso, come valuta le attuali condizioni di mercato? Come caso abbiamo tracciato due possibili scenari alla luce dello scenario attuale di incertezza sui mercati finanziari. Un primo scenario è quello di riflazione, in cui ci sia crescita, soprattutto stimolata dagli Stati Uniti e conseguentemente inflazione, come vediamo esserci spinta non soltanto più dal prezzo dei commodities, ma anche dall'aumento dei salari, quindi dalla spinta salariale, che pensiamo al 60%, e un altro invece di stagflazione, in cui il tema è sempre comune, cioè dell'inflazione, ma ahimè c'è una minore crescita economica e quindi sicuramente non abbiamo quello stimolo positivo dal punto di vista degli asset rischiosi, che invece avremmo nel primo scenario. Siamo positivi al 60% per lo scenario di riflazione e quindi sicuramente andiamo a preferire ancora quei rischi asset, che possono essere l'equity da un lato, oppure da parte obbligazionale a quelle emissioni obbligazionali a spread, quindi mi riferisco più alla parte margin market, in our currency, quindi senza rischio valuta, perché magari nei portafogli dei clienti non vogliamo aggiungere volatilità, e invece spessandoci sulla parte corporate, più tradizionale sulla yield, guardare con lo spettro più globale questa selezione, dove abbiamo interessanti rendimenti ancora da andare a cercare. All'interno di questo scenario che ha delineato, qual è la soluzione che Fonto Bell Asset Management ha pensato per gli investitori italiani? Noi tradizionalmente siamo riconosciuti dal mercato per la qualità dei nostri prodotti azionari e obbligazionali, però in questo scenario, più che una direzionalità verso uno di questi asset classi, che comunque restano degli elementi di fondo importanti nella costruzione dei portafogli, preferiamo assemblarle al meglio in una soluzione che si chiama Multi Asset Solution, lanciata il 17 ottobre dello scorso anno, che ci vede oggi in un show in giro per l'Italia, che continuerà la prossima settimana con le tappe di Firenze, Roma e Napoli, dove la migliore soluzione per il cliente è proprio l'alchimia delle varie componenti di qualità di Fonto Bell per la parte equity, per la parte bond, commodities, valute e sicuramente quegli elementi che possono essere di decorazione nella parte alternatives. Grazie ancora dunque a Giovanni Temare, Head of Distribution per l'Italia di Fonto Bell Asset Management. Grazie a voi e buon lavoro.